Se è vero che ci possono essere stati abusi, si eliminano gli abusi, ma io oggi, fino ad oggi, ne conosco uno solo di abuso. Lo so perché l'ho denunciato io direttamente alla Procura della Repubblica, che l'abuso che è stato fatto il 24 di dicembre del 2005, quando a casa di Silvio Berlusconi, secondo l'ordine di cattura che è stata fatta a Favata, è arrivata una intercettazione telefonica, Fassino Consort, che era legittimamente acquisita agli atti e che invece colui che l'ha registrato per conto della Procura, che era un imprenditore, è andato d'accordo con Favata, che poi l'ha ricattata per 300 milioni, è stato arrestato ieri, d'accordo con Paolo Berlusconi, è andato a casa di Silvio Berlusconi a farglielo sentire e in questa intercettazione sta riferito. L'unica musica che conosco io è quella che ha commesso il Presidente del Consiglio, che a mio avviso dovrebbe produrre... Che avrebbe, che avrebbe commesso, avrebbe commesso, avrebbe commesso, e quella ha ricevuto 300 milioni a grado, e quella ha ricevuto 300 milioni a grado, a sua insaputa, a sua insaputa ovviamente, certamente, a sua insaputa. Fammi finire una cosa perché tu dicevi prima, rapidissima, io ho qui l'ordine di custodia cautelare per Favata, siccome voi prima dicevate sarebbe, non sarebbe, il magistrato dice, in base agli elementi esposti si è accertato che, e al punto 10 c'è scritto, si è accertato che Paolo e Silvio Berlusconi hanno ascoltato il contenuto del file consegnato nella pennetta da Favata e da uno di questi signori che lavorano per le procure facendo intercettazioni, cioè il signor Raffaelli che lavorava per la RCS, una vicenda su cui io vorrei tornare perché è uno scandalo incredibile, la mia redazione è stata sequestrata, è tenuta sotto sequestro e perquisita per due volte, io sono stata interrogata per un numero infinito di ore su questa vicenda e la conosco nel dettaglio, è il Watergate italiano. Vabbè, sentiamo dopo questo Watergate italiano. C'è la concisa che voleva riprendere questo discorso di Favata, no? Sì, esatto, intanto era assicurare Pigi che non rompo nessun fronte, io c'ero all'incontro dei direttori e quello che volevo dire, lo dico anche a Vittorio Zucconi, è in fondo quello che ha detto Marco, cioè che se si impedisce di indagare l'oggetto principale e questo poi dopo che non se ne possa neanche parlare diventa secondario, evidentemente i due terzi di questi non avremmo più niente da raccontare, questo è il punto. Si può anche mantenere la libertà dei giornalisti, ma se si impedisce quella dei magistrati e degli inquirenti alla fine poi il tema diventa quello. Ma la cosa molto interessante secondo me, noi oggi abbiamo pubblicato una copertina in cui chiediamo al Presidente Berlusconi che naturalmente come sempre fa non risponderà, Presidente può farlo solo lei? Perché questa storia di Favata, che è la storia che cerco di riassumere proprio in cinque parole ma devi avere la pazienza di ascoltarmi, è questa. Alla fine dell'estate scorsa arriva da me in redazione un signore che mi propone una storia mi propone di venderla perché dice io sono in difficoltà economiche e voglio che la compriate noi non compriamo storie, non compriamo nassi, non compriamo niente però lo ascoltiamo e poi ci mettiamo due mesi a verificare questa storia che risulta verificata la storia e quindi la pubblichiamo il 9 di dicembre dell'anno scorso con un titolo che dice Nastro di Natale, pezzo non ripreso, naturalmente ignorato perché era una storia enorme, quella che adesso Di Pietro chiama il Watergate italiano la storia è questa. Questo signor Favata, socio in affari di Paolo Berlusconi nonché del signor Raffaelli che fa parte di questa società di intercettazioni la RCS che lavora per la procura di Milano quelli che intercettano per conto della procura, una società esterna che fa un lavoro tecnico questo signor Raffaelli che fa il tecnico dei telefoni molto amico di Favata, entra in possesso di un nastro in quel momento di un file, di una pennetta, in quel momento talmente segreto da esistere in un'unica copia cioè esiste solo la pennetta di quel nastro dentro la cassaforte custodita dagli inquirenti è il nastro in cui si parlano Fassino e Consorte e si dicono abbiamo una banca. Che cosa fa per Natale il signor Favata che vuole attraverso il fratello Paolo Berlusconi va da Silvio Berlusconi ad Arcore vuole acquisire un credito per fare degli affari successivi in un paese dell'est e gli porta insieme a Raffaelli e a una terza persona questo nastro, un nastro segretissimo, proibito cioè tolto da una cassaforte nemmeno trascritto nemmeno trascritto, esiste solo in questa copia e Silvio Berlusconi lo ascolta questo ce lo dicono tutti i testimoni ma come dire, il magistrato lo ha accertato nell'ordinanza lo avrebbe ascoltato il magistrato dice che è accertato che lo ascolta e gli dice le sarò eternamente riconoscente Silvio Berlusconi dice Favata le sarò eternamente riconoscente due giorni dopo, considerando le feste tre giorni dopo esce sul giornale di proprietà di Paolo Berlusconi a tutta pagina il famoso scoop del giornale Fassino a consorte abbiamo una banca la conseguenza di questa vicenda sono state le elezioni politiche del 2006 che sono andate come sono andate pareggio ora la cosa interessante è che mentre si discute di limitare l'uso di questi strumenti il Presidente del Consiglio ne fa uso illegale evidentemente o ne farebbe uso illegale a questo magistrato c'è la figura di Ghedini in tutto questo che Favata più volte consulta dicendogli per favore tu sai come sono andate le cose io sono sull'astrico non ho più un lavoro mia piccola da mantenere datemi dei soldi come si usa a fare datemi dei soldi così io sto zitto questi che cosa fanno gli procurano un avvocato non si è mai visto che il ricattatore sia difeso dallo stesso avvocato del ricattato gli procurano un avvocato il quale avvocato promette al figlio di Favata un lavoro un posto di lavoro in cambio del suo silenzio dicendogli non lo facciamo adesso il passaggio di denaro perché ci controllano lo facciamo fra un po' intanto facciamo lavorare tuo figlio questo non contento perché effettivamente non gli bastava che lavorasse il figlio voleva i soldi per sé per mantenere la sua famiglia insiste e va da Ghedini il quale lo liquida chiamato dal magistrato Ghedini si rifiuta di testimoniare e a un certo punto dopo tre o quattro volte lo liquida nel senso che non le vuole sapere ti dà gli soldi no non gli dà i soldi non gli dà i soldi e gli allora Favata insiste va cercando questi soldi e finisce ai giornali perché si vede che è una è una prassi è scannato come si dice esatto allora Ghedini che cosa dice a un certo punto al magistrato di Milano che lo vuole interrogare gli dice no io non posso perché sono diciamo coinvolto in questa vicenda Di Pietro poi diciamo spiegherà meglio gli aspetti tecnici perché anche lui è stato interrogato ma quello che io vorrei dirvi è che Ghedini a un certo punto dice il signor Raffaelli oltretutto cioè il tecnico delle intercettazioni che ha procurato il nastro a Favata è un mio consulente io mi sto consultando con lui in questa fase di scrittura della legge per la limitazione delle intercettazioni allora siamo come dire cioè il consulente di Ghedini per scrivere la legge che qui abbiamo in discussione in questi giorni al Senato è la persona che ha consegnato un nastro di intercettazioni secretate e riservate a Silvio Berlusconi però se io fossi nei banni in bocchino è come dare le chiavi della cassa forza alla banda Bassotti è la dimostrazione che forse bisogna essere attenti a queste intercettazioni allora Antonella Maschali è assolutamente sul punto perché lei è giornalista del Fatto Quotidiano e di Radio Popolare tu stai seguendo tutta la vicenda sull'intercettazione Fassino-Consorte ma hai anche seguito il video di Marrazzo e l'utilizzo che se ne è fatto chiamiamola la vendita dell'intercettazione Fassino-Consorte perché ho tentativo di vendita tentativo di vendita non c'è un po' una contraddizione che si cerca di fare una legge adesso per imbavagliare tutto e mantenerne il cassetto quando nel cassetto prima magari c'era qualcos'altro beh direi che è una cosa scandalosa più che una contraddizione perché abbiamo un presidente del Consiglio che ha parlato di guerra santa contro le intercettazioni e poi a quanto pare dalle notizie dell'inchiesta della Procura di Milano il 24 dicembre 2005 riceve a casa sua nella villa di Arcore questo Fabrizio Favata Roberto Raffaelli con Paolo Berlusconi 24 dicembre 2005 questo è stato accertato lo dice anche il GIP abbiamo l'ordinanza di custodia cautelare perché Favata è stato arrestato in cui si dice che l'incontro è certo non può essere non mi posso immaginare che il presidente è così il 24 quando arriva pomeriggio giocando pomeriggio aspetta un attimo volevo dire questo a sentire Fassino nell'intercettazione è una scena da camminare ma volevo dire questo Favata ci abbiamo l'ordinanza ci abbiamo l'ordinanza Favata che cosa oggi è stato interrogato in carcere interrogatorio di garanzia perché è stato arrestato per estorsione allora ha negato l'estorsione nei confronti di Raffaelli il suo amico però ha confermato questo mi risulta tre ore e mezza l'interrogatorio davanti al GIP l'incontro di Arcore il fatto che è stata fatta ascoltare l'intercettazione consorte Fassino ma c'è di più ci risulta che due settimane fa circa Favata nel momento in cui finalmente si decide di verbalizzare quanto invece aveva detto ai giornalisti a cui aveva tentato di vendere la storia così come ha fatto con l'onorevole Di Pietro che però ha denunciato e quindi l'inchiesta è partita da quell'esposto ha depositato dei nastri non c'è ancora l'emendamento da Dario di conversazioni tra lui e Raffaelli in cui gli fa riepilogare la vicenda di Arcore ma anche tra lui e l'avvocato cipollè l'avvocato dello studio Ghedini lo sapete tutti che è Ghedini l'avvocato di Berlusconi e questi audio li ha consegnati al PM di Milano che sta facendo l'inchiesta ora bisogna quindi le vedremo delle belle esatto le vedremo delle belle di Milano di Milano Grazie a tutti.